Non è una manifestazione contro e nemmeno uno sciopero, quella del prossimo 9 febbraio a Roma sarà una manifestazione per portare in piazza le proposte e le istanze del sindacato e quanto hanno ribadito nel corso di una conferenza stampa i segretari dei sindacati di CGL, Cisleguil, Spina, Notaro e Boccardo. Chiediamo al governo di cambiare alcune cose contenute nella manovra di bilancio. Innanzitutto il drastico taglio che c'è delle risorse di investimento per il mezzogiorno perché altrimenti il mezzogiorno non potrà mai allinearsi al resto del Paese. Poi perché chiediamo comunque una riforma vera e strutturale sia per quanto riguarda le politiche relative al sociale, sia per quanto riguarda la sanità, sia per quanto riguarda anche gli ammortizzatori sociali che per le aziende in ristrutturazione e in crisi devono essere strutturali e non temporanei. Anche perché chiediamo tutta una serie di investimenti che possono riportare lavoro a questo territorio. Lavoro e sviluppo, equità fiscale, pensioni, povertà, questi i temi principali della mobilitazione. C'è il rischio che aumenti la tassazione a livello locale. È chiaro che c'è una fase, un momento storico in cui determinate scelte possono favorire sviluppo. Noi riteniamo che con queste misure purtroppo non si genereranno posti di lavoro, quindi la ricchezza non aumenterà e la dimostrazione è stata già data da questa recessione tecnica. Quindi è chiaro che probabilmente ci volevano scelte coraggiose perché in questi anni sono stati fatti dei sacrifici. Ciò non è avvenuto perché probabilmente non hanno voluto ascoltare la voce di chi porta avanti interessi di persone che rappresenta, ma anche con proposte raccontando quello che poi è il vissuto di ognuno di noi, di questa società. È in gioco il futuro del Paese, dicono ad una voce sola dal sindacato, sottolineando come la partita in gioco riguardi anche il futuro del Molise. Si va avanti con provvedimenti che sono tamponi da un lato o che rincorrono la pancia degli elettori. Qui c'è bisogno invece di una svolta vera, concreta, che abbia a cuore l'interesse della nazione e in questo caso anche del Molise. Ciò significa avere una visione complessiva di che cosa si vuole fare di questo Paese, come impegnare le risorse, come utilizzarli a meglio e come combattiamo ad esempio alcune situazioni odiosi, come ad esempio l'evasione e tanti altri provvedimenti. Quindi c'è bisogno di mettere in campo un'azione forte e noi su questo chiamiamo a raccolta i cittadini e ovviamente i lavoratori, perché secondo noi o abbiamo una visione complessiva o questo Paese purtroppo non ha grandi prospettive.